Arrivamo a fondi, non c'era nessuno, tutto sprangato, tutto chiuso, gli abitanti erano scappati. Dissi ad Elsa, qui in città non c'è nessuno ma io sono sicuro che i contadini sono rimasti tutti, perché quelli devono pensare ai campi, alle bestie, mica scappano. Infatti era così, la campagna era piena di gente, ci incamminando per una strada polverosa tra siepi pieni di more, andammo per un sentiero, poi un altro, alla fine arrivamo a un casale. La campagna era tutto un freniere di cicale, un'area di pace estrema, non c'era niente che ricordasse la guerra. Quello che si dice a proposito della poesia, di se stessi, dei propri film e dei romanzi è sempre viziato, come dire, da certe abitudini che sono fondamentalmente medie, sociali, culturali.